C'è già pronto mister Braglia, allora insomma mister cosa le consegna questa amichevole contro il Sorrento a sette giorni dall'esordio in campionato contro il Campobasso? Non si è fatto male a nessuno, che tutti si sono mossi, è stato un allenamento per finire la settimana, adesso ci prendiamo un giorno di pausa e riniziamo martedì, tutto qui, non è che ci si aspettasse chissà che. Buonasera mister, che indicazioni arrivano? Secondo lei comunque è un test importante anche se poi si comincia a fare sul serio da domenica e soprattutto la variabilità del modulo, però insomma ci sembra di capire che vuole giocare con i due tre quartisti dietro la punta, questa è la cosa che ci stiamo un po' chiedendo tutti. Ma è quello che abbiamo fatto a Terni, abbiamo giocato con Carriere e Mastalli perché ne avevamo quelli, oggi c'era Canute e poi abbiamo adattato altri ragazzi che sicuramente fanno più fatica di Canute e al limite anche di Carriere perché hanno caratteristiche diverse, però a calcio se non si corre, se non ci si mette in discussione non si va da nessuna parte. L'idea è quella, poi come sempre bisogna vedere chi arriva e noi di conseguenza poi ci adattiamo. Ne approfitto per farle anche altre due domande, difesa 3 o difesa 4 visto che con Bove comunque ha più possibilità di scelta e comunque la regola dei due giocatori, cioè per ogni ruolo due giocatori più o meno mi sembra che sia stata accontentata e poi che ne pensa anche della risposta del pubblico? Ha avuto applausi, il che è un segnale positivo e importante perché... No, se mi vuoi fammi una prima di iniziare almeno fammi combinare qualche guaio, poi dopo vediamo. No, io, noi chiaramente stiamo aspettando anche giocatori con caratteristiche appropriate per fare determinate cose. Se poi non arrivano ci adeguiamo e facciamo altre cose, come abbiamo sempre fatto l'anno scorso, senza parlare tanto e senza lamentarsi. Mister, buonasera, ben ritrovato. La sensazione, vedendo anche questo 4-3-2-1 che manca davvero poco, parlando di quella qualità a cui spesso si è fatto riferimento, per sviluppare magari un tridente all'altezza, molto dipende dal mercato, però i segnali sono buoni. La vediamo più propositiva o magari, ecco, in questi ultimi giorni di mercato può arrivare davvero qualcosa per cambiare volto ancora di più, per dare un'altra soluzione? Di quello che abbiamo parlato finora, è chiaro che se va a chiedere alcuni giocatori che non ne hanno le caratteristiche, si ammassano, vanno dentro, si chiudono gli spazi da soli, ma hanno altre caratteristiche, hanno altre qualità. Noi, è chiaro che se vogliamo fare determinate cose, deve arrivare alcune persone. Se non arrivano, andremo avanti per un'altra strada, come abbiamo sempre fatto. Non è che noi abbiamo l'abitudine di lamentarci, non l'abbiamo mai fatto. Noi siamo qui per lavorare, per cercare di fare il meglio che abbiamo quando abbiamo tutti a disposizione. Buonasera, le volevo chiedere, visto che tante squadre qui ad Avellino verranno naturalmente a chiudersi, perché Avellino sarà fra le tre o quattro squadre, almeno ci auguriamo che lo otterranno per la promozione, non pensa che dobbiamo riempire un poco più l'aria nelle partite in casa, giocando solamente con una punta, diciamo, una punta, una sola punta, diciamo, d'aria di rigore. Però io questa squadra, sia con i nuovi arrivati, se dovesse arrivare un altro giocatore come Mikoski, praticamente fuori casa, può essere effettivamente tremenda. Però in casa, forse con le squadre che si chiudono, a mio parere, forse bisogna riempire un più l'aria. Lei cosa pensa? Io penso che le partite vanno viste, vanno giocate e vanno interpretate. Poi, se avremo bisogno di due attaccanti, tre, quattro, quello che sarà il momento, ce lo dirà il campo. È inutile parlare prima. Prima è tutta teoria. Noi siamo pronti a fare qualcosa di diverso se ci sono giocatori con caratteristiche diverse. Se no, andremo avanti per la nostra strada.